Bentornati con le consuete previsioni a cura di Meteo One. L'anticiclone nord-africano sarà sempre più cattivo sull'Italia. Valori termici di 25 e 26 gradi verranno raggiunti alla quota di 1500 metri, pertanto alle basse quote le temperature cominceranno ad essere veramente roventi e nei prossimi giorni non si escludono i 40 gradi e oltre. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per mercoledì 2 agosto. Giornata all'insegna del sole ma anche del gran caldo su entrambe le regioni. Locali e deboli annuvolamenti potranno verificarsi nel pomeriggio sul subappennino Dauno e lungo la catena appenninica, altrove i cieli rimarranno sereni fino a sera. Temperature roventi sulle aree più interne del tavoliere Materano e Pianure Salentine con massime che toccheranno i 38-40 gradi, più fresco lungo le coste ma con forte sensazione di afa. Anche le minime saranno in rialzo e in alcuni casi non caleranno al di sotto dei 26-28 gradi. Vento sostenuto dai quadranti settentrionali con locali rinforzi nelle zone interne Puglisi e Lucane durante le ore pomeridiane e per quanto riguardi i mari da calmi a poco mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno oggi ringraziamo il nostro telespettatore Gabriele Letizia per questo scatto che ritrae un bellissimo tramonto che illumina il litorale roccioso di Roccavecchia in Salento. Se volete inviare la vostra foto del giorno contattateci al numero whatsapp e alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.